Buongiorno, siamo a Cibus, siamo allo stand di Solo Taggiasca. Signor Girimoni, buongiorno. Lei all'interno dell'azienda chi è? Sono il titolare. Ci descriva i prodotti che state presentando qui a Cibus. Presentiamo l'olio di Monocultiva Taggiasca in purezza e presentiamo l'oliva in salamoia, nelle due varianti, salamoia naturale, poi l'oliva snocciolata in olio extravergine e il patè di olive, sempre di varietà Taggiasca. Voi siete della provincia d'Imperia? Provincia d'Imperia, sì, precisamente a Deglio Faraldi, che sta un po' nell'interlanda di San Bartolomeo al mare, a 7 km dal mare. Voi commercializzate in Italia? Sì, principalmente in Italia. Siamo qua per cercare dei contatti verso l'estero, che è un mercato da esplorare, se non altro. Quindi qualcosa esportate? Sì, qualcosina sì. Quali sono i mercati più ricettivi fino adesso? Ma io penso quelli del nord Europa e Stati Uniti. Per quanto riguarda il 2016, avete in programma altri eventi a cui presenterete i vostri prodotti? Ma forse pensavo di fare un evento a Londra, in cui mi sono arrivate delle informative, però dobbiamo ancora decidere perché il budget è un po' limitato, quindi dobbiamo vedere. Intanto ci concentriamo su Cibus allora. Esattamente, sì. Buon lavoro e grazie. Grazie mille a lei.